Musica Si muove Non mi hai mai raccontato bene il tuo sogno, perché? Il mio sogno? No No, per favore, raccontamelo L'angelo veniva da me e mi diceva che il bambino che è dentro di te era stato concepito per opera dello Spirito Santo E che io non dovevo avere paura Tu hai paura? Sì? E tu? Sì Ti chiedi mai come faremo a capire? A capire che cosa? Che lui non è un bambino come tutti gli altri Forse è per qualche frase che dirà O per uno sguardo particolare Quello che mi chiedo è Se sarò mai in grado di insegnargli qualcosa Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa?